Ciao a tutte ragazze, bentornate sul canale, benvenute in un nuovo video. Oggi video organizzazione pasti perché voglio mostrarvi come organizzo le pappe di mattia. Quando vado appunto dal fruttivendolo, compro determinate cose, vi faccio vedere quello che faccio. Voglio premettere che non sempre riesco a fare questo. Questo dipende molto anche dai bambini, come si comportano, però per la maggiore è questo quello che faccio. Oppure me lo suddivido in più giorni, cioè qualche giorno faccio due preparazioni, un altro giorno me ne faccio una oppure due. Insomma, cerco di organizzarmi in questo modo. E non vedrete legumi, perché i legumi sono secchi, di conseguenza non c'è bisogno che io appena li compro li debba fare, perché comunque non vanno a male. E non vedrete ad esempio i piselli perché sono congelati e di conseguenza io li faccio e li utilizzo. Io non li faccio per congelarli, perché se sono congelati non si possono ricongelare assolutamente. Quindi vi faccio vedere tra poco quello che faccio. Voglio precisare che alcune preparazioni le vado prima a lavare e mettere in dei contenitori, perché devo comunque aspettare che i pentolini finiscano di cuocere le altre cose che ho messo in precedenza. Per questo nel video vedrete appunto che vado a lavare delle verdure e le metto in dei contenitori che però poi vedete vado anche a cuocere. Perché comunque ho quattro fuochi e non ho tantissimo spazio per fare tutte le preparazioni insieme. Quindi io vado a lavarle tutte, alcune le inizio già a fare, le altre le lavo e le metto in alcuni contenitori. Spero che questo video vi piaccia e sia soprattutto utile a voi mamme. Se così fosse lasciate un bel like di supporto, se non l'avete ancora fatto invito ad iscrivervi al mio canale così da essere sempre aggiornati attivando anche la campanella per non perdere tutti i prossimi video. Fatemi sapere con un commento qua sotto voi come vi organizzate con i pasti dei vostri bambini. Se volete consigliarmi qualche cosa accetto come sempre i vostri consigli. Io vi mando un grosso bacio, ci vediamo alla prossima e vi lascio al video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.